Non è il T-Rex, anche se le fauci potrebbero in qualche modo suggerire una somiglianza, ma è il T-Red e sono i micidiali semafori pronti ad immortalare chi passa con il rosso. In sostanza, la sanzione è assicurata. Contro i semafori si era già scagliato il centro-sinistra, che oggi però ha qualcosa da aggiungere. Se proprio si devono fare, che almeno rispettino determinate condizioni. A partire dalla prima, basilare, il conteggio alla rovescia. Si parla di un pronunciamento del Ministero che dice che comunque questi semafori, prima o poi, dovranno essere accompagnati dal countdown, però già che si sono installati adesso si poteva mettere il tipo più moderno con il countdown. Sì, quello che chiederemo domani con un ordine del giorno al Consiglio Comunale è che i T-Red entrino in funzione solo quando saranno installati, e si può fare in poco tempo, i countdown, cioè i contatori dei secondi che permettono agli automobilisti di conoscere con esattezza la durata delle fasi del rosso, del giallo e del verde per evitare quei comportamenti anche un po' sconsiderati dati dall'ansia, dall'insicurezza, che possono essere inchiodate improvvise o addirittura paradossalmente accelerazioni pericolosissime, che paradossalmente rischiano di rendere il T-Red uno strumento più di insicurezza che di sicurezza. Se invece non saranno disponibili, allora avremo ragione nel ritenere che il vero obiettivo sia quello di fare cassa, cioè quello di fare un'adriatica risorsa a due, cioè una seconda capiente tasca che fa fluire soldi dei cittadini nel Comune di Pescara. La norma dice che va motivata all'installazione del T-Red, che è connessa al fatto che ci sono dei punti rilevati come pericolosi e caratterizzati da un alto tasso di incidenti stradali. Quindi l'altro aspetto che noi richiediamo è che si faccia una verifica ripetuta e puntuale che possa rilevare quali sono i punti della città in cui c'è bisogno di questo strumento. Poi chiedete anche che la striscia bianca, che è quella che conterrà i sensori famigerati, insomma venga manutenuta e sia ben visibile? Sì, beh, questo è proprio indispensabile, bisogna farlo ovunque, ma in modo particolare dove viene installato questo impianto è necessario che la segnaletica orizzontale sia sempre nitida perché non ci siano dubbi su dove sia la fascia d'arresto.